forse tutto bro devo essere sincero io non sono utopatico no flame se vuoi mandarmi un millino magari stasera ce lo facciamo pure start condiviso su di van cioè non è che ho problemi gravi di utopatia è la pasta di preta il primo sorriso no ma dai oh grazie oh grazie grazie mille grazie il primo sorriso sincero della live no mi hai fatto contento questa parola non devi mangiarla questa la devi metterla la vasci in là no no io questa non la mangio questa la guardo per tutta la vita azzano ma che stai a fa ricordate che i squali stani arriva è Eeeeeee 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 Cloe shards Io stavo andando avanti all'infinito C'è molto la chiusura E benvenuti In questa nuova Trasmissione Culturale Ma che dico culturale? Eeeeeee No cool Culinaria Nel senso che esce dal buco del culo Spesso e volentieri Come ogni parola che esce Da Rick Dufer La copro la lia Salve Dottore come va? Come state? Bene bene Una bella pisciata Una bella cagata E si entra in pace col mondo Madonna ma ci hai messo un secondo Io non so Un attimo fa Bezzi guarda è stato come lanciare Una secchiella d'acqua Ha 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 Ho avuto un attimo un attacco Pure io di mar de panza Ma ora mi si è bloccato Mi è passato Quindi il duca ormai come gli ucce Come i passeri Fa tutto insieme Io sono come i piccioni Avvassare le brache Faccio tu 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 Poi mi ritiro su ho fatto Una smiragliata Ma ne manco me tu puli proprio Perché ho il culo proprio pulito Dopo ste cagate Bello Lo chiamo A punta di coltello Lo stronzo a punta di coltello Punta di coltello Che è usata in certi ambienti Malavitosi Da Dai quali alcuni Dei nostri recenti ospiti provengono Guarda dove siamo andati a fini Cioè? Siamo andati a fini Victor Laszlo No Perché sto qua Siamo andati a finire Vedi Sono i traguardi della vita E sono soddisfazioni Sì Pastorizia Neverdice Si hanno linkato I podcast quelli intellettuali Ehi grazie Chi è? Aspetta che mi hanno lasciato Sul cellulare Chi è? Il nome Just Oddio È una certificazione Esatto Un marchio di qualità Ragazzi Oggi Quanto stiamo? Justbox Justbox Grazie Grazie mille Metto la chat Ragazzi Aspetta che ve l'aggiorno Devo fare l'aggiorno pure qua E lo dico subito 4.445 Sì sono aggiornate Grazie Sono aumentati 4.445 Era prima Adesso sono aggiornate 57 Allora ragazzi In questa live Abbiamo il dovere Di ittare Le 8.600 È per far vedere Che non ci stoppiamo E anche per Noi non abbiamo voluto mettere Ne abbiamo parlato tanto Fra di noi Un sub goal Per il Riccardo Gate Ve lo diamo così Perché sappiamo che lo volete Però in questa live Vanno ittate le 8.600 E a 8.600 sub Io e Simone Canteremo Un pezzo Dei Muse Sì? Assolutamente Per intero Canteremo Newborn Sì Quindi Se volete sentire Poi se noi ci arriviamo Ormai non interessiamo più a nessuno No esibizione a cappelle A cappelle Cappella contro cappella Che ora vediamo Qualcosa facciamo Un duello di Spade Canoro Diciamo Sì Sì Non ti piacciono i Muse Cioè Simone e Dave Sei forti a cantare Ma i Muse ti fanno schifo Eh no Guarda che sono una bella band Anzi sono meglio loro di noi Beh Oddio Ne esageriamo Sono persone sicuramente Migliori di noi A livello umano Ovviamente Cioè ci vuole poco Siamo delle merde Pastorizia never dies Mi sta simpatico Perché pure il nome Implica che Ci sia una sorta di pastorizia Cioè una Una classe sociale Eh Dei pastori Che la pensano in un certo modo Che non muoiono mai Cioè questa La pastorizia ovviamente Non è una persona O delle persone È un ideale È un state of mind Diciamo che Diciamo che in certi posti La fregna di pecora È sempre calda È sempre pronta Ha descritti molto bene Gianluca pure In Sardegna Sono una cosa che è vero Eh Marco In Sardegna È un'alternativa Diciamo reale A quello che può essere La masturbazione classica E beh certo Immagina che stai in giro Per tutte le pianure Della tua regione Che indiscriminatamente Potrebbero essere Pianure sarde Pianure liguri Pianure padane Eh sì Fuori per giorni E c'è una pecora Con la fregna calda Anzi più pecore Con più fregne calde E nessuno te vede Capito E magari La tua moglie La tua compagna È a chilometri di distanza Asciutta No ma al di là Asciutta Magari è anche calda È bollente Vabbè molti pastori Magari hanno una moglie Inadattata No vabbè Ma il discorso è che Tu sei fuori Per giorni Stai lavorando per portare Il pane a casa Magari in questo caso Quello croccantino Fino E che fai Cioè Magari manco te prende il telefono Perché in quelle zone di Pascolo Manco te puoi aprire il Pornhub così Sì A quel punto Io sono perfettamente d'accordo Che poi non c'è nemmeno il rischio Perché male che va Sono arrosticini C'è presente l'effetto termos dei testicoli Delle parti intime delle persone Certo che ce l'ho presente Immagina una capra C'ha quell'effetto termos 4x Rispetto alla fregna di una donna Cioè ti bolle l'uccello Io lo sfido chiunque a mettere È proprio un tostapene diciamo Un tostapene Un tostapene Il famoso tostapene Eh questa va sconfitto Sì sì Specie se si ha freddo durante l'inverno Mettiamo la manina Ma passiamo a un argomento serio Sempre per le cose che abbiamo scaricato Così poi passiamo ai link C'è un annuncio molto speciale Di David John Rubino Day one Day one Di quello che poi sarà il suo percorso Per quello che ho capito Non so se La Slipica Stretto Non credo sia la stessa operazione Che faceva Ciccio Da quello che ho capito io sì Perché alla fine è la Riduzione dello stomaco L'unico discorso che mi chiedo io È che ovviamente lui Adesso ha fatto Penso abbia fatto la visita La prima visita Sì 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 Però le liste di attesa sono molto lunghe Perché se vai da privato Te levano un sacco di sordi E non penso che sia Al momento La volontà Perché quello c'è proprio Chi c'ha proprio Megasordi Si è messo in attesa Si è messo in attesa Un anno Due anni Dipende qual è il tuo Grado di gravità Di obesità E comunque David Fortunatamente Non è che è tipo David al limite È sovrappeso Ma David intanto ci conferma In chat che Sono caldissimi Sono caldissime Sono caldissime Sono caldissime Pure quelle dei cazzi Non so se è una cheat O ha incontrato delle capre Non so no In Abruzzo Potrebbe aver palpato In Abruzzo In Abruzzo Spero per David Che si faccia presto Ma è anche Una buona cosa da dire Che comunque Lui non è che sta in condizioni Di quelli che poi muove Quindi Non penso che era una priorità Massima Perché Alla fine comunque Lui se vuole Riesce pure a allenare Infatti vabbè La decisione L'ha presa Ma questa è un'accusa grave Che non è grasso abbastanza Ma che vuol dire È un complimento È un complimento Tu lo stai accusando Che lo sta facendo Per pigrizia Per vanità No 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 Questo Nel senso Capisco che a un certo punto Perché hai visto Io ne parlavo pure io Dei miei disordini alimentari Sì E anche spesso della non volontà Di andare in palestra Per risolvere In un mese di allenamento Però Lui ovviamente Non è che lo risolve in un mese Però C'era pure una ragazza Che l'altro giorno Stava in live da lui Che gli ha fatto un po' Stava fatto Perché era un po' preoccupata Cioè comunque Operazioni invasive Ma perché prima Non provi Sei sei mesi di allenamento Pugilato palestra Come stava a fare Perché le sue condizioni Non so Irrecuperabili Dici fa una corsetta Una corsetta Un piano di allenamento E dei cosa Cioè Io a me queste cose A me mettere sotto il ferrico Soprattutto il discorso D'anestesia completa A me mi fa una paura incredibile A me me l'hanno pure offerto Cioè Me l'hanno pure proposto Di operarmi pala schiena Perché io ho due produzioni gravi Mi ho detto Guarda quelle sette operi Capace che risolvi Io ho fatto col cazzo Perché non c'ho C'ho paura Delle operazioni in generale No quella è una roba Sì Però Boh non lo so Nel senso Siccome Comunque Rubino Questo è un po' un appello Che faccio io personale Siccome lui È in grado Al di là del meme Di allenarsi L'ha pure fatto Si è allenato per puggiato Per quell'incontro Va a giocare a carcetto Quando capita Una cosa in altra Non è inabile al movimento Non è che stava capito Sì Mi ricordo che Ciccio Stava tutto Ciccio C'aveva bisogno Ciccio Quando ha fatto l'operazione Il peso Stava più di 220 Era molto diverso Ma molto Pure lui Stava su un letto bloccato Però Vi ricordate Si allenava Però ricordo Mi ricordo Si allenava C'aveva una Alimentazione Ma faceva comunque Fatica A vedere i risultati Sì Era quella la cosa Quindi diciamo È stata Da quello che ricordo io Una scelta Proprio Forzata Nel senso che È come quando le provi tutte Vedi che non riesci Stai sopra una certa soglia Può essere di metabolismo Ma non so bene i dettagli Quello che hai detto tu è vero Sono condizioni Completamente diverse Ma pure dallo stesso Joker dell'epoca Pure Joker Stava sui 200 kg Credo Stava in condizioni Molto diverse Rispetto a quello Ma poi per me c'è una cosa Condivido quello che hai detto tu Ma infatti Vi dico tranquillamente Che in privato Io gli ho detto Sta cosa qua E poi gli ho detto Però capisco pure Che la scelta Deve essere tua No ovvio La scelta è 100% sua E comprendo anche Guarda Ce sto a pensare Pure adesso È un po' quella cosa De Una volta che ho fatto Sto passo Non posso più Tornare indietro E quindi non ho più scusanti Eppure se voglio Non ce riesco Perché poi c'è una riduzione Dello stomaco Però te dico una cosa Però Molti poi potrebbero Come posso dire Rimanere grassi Pure nonostante L'operazione Se la volontà Poi non è Quello C'è anche sto rischio Quindi oltre il trauma Oltre l'operazione Che ti riduce lo stomaco C'è pure il rischio Il fatto che il rischio È che se te Quindi Sono d'accordissimo È molto difficile Cioè quello che sto a dire È vero Perché proprio il rischio Non so se è il caso Però tante volte È dimostrato Che se te non superi Comunque i problemi alimentari Che c'hai Esatto E comunque tu C'hai la ristrezione gastrica Poi l'ha fatta pure E mi madre Però comunque mi sono informato Un pochetto sull'argomento Prima che la facesse E se comunque Uno continua Un'alimentazione sbagliata Tu c'hai meno fame Perché lo stomaco È più piccolo Ma se te mangi comunque male Magari mangi schifezze Mangi dolci Fritti Ogni 20 minuti Tutto il giorno Magari Non è l'esempio del rubino Però in generale Non è che dimagrisci Per forza Cioè infatti è molto importante Non so se lo fanno Poi in Italia Dei cortisolo alti Picchi glicemici Sì ma proprio controllare Lo stato psicologico Prima di operare De una persona A livello alimentare Cioè nel senso Come se c'ha disturbi alimentari Come si ha capito Che comunque deve sta dieta E dovrà mangiare di meno Io proprio questo Non so se è il caso di Rubino Sto di in generale Volevo chiederlo pure a Simone Secondo te Tu che ne pensi questa roba Che tu Su queste cose Anche sul condizionare la propiamente È un argomento pure Che ti interessa ultimamente Cioè tu non superi Veramente non operi Su come funziona il tuo cervello In questo caso Cioè questo ingiustoma Quanto ti pare Se io ho gola tremenda E ci avessi uno stomachetto così Capace che veramente Mi mangio 200 dolci Vado a vomitare Continuo a mangiare Non risolve il problema E poi ho visto pure Ciccio stesso Alla fine Non è che è diventato Capito Mister Olimpia A un certo punto Pure lui ha trovato uno stallo E ne parlò anche nei suoi video Dice cazzo Non riesco più a dimagrire E là Quello stallo Lo superi per forza Con la forza e volontà Cioè nessuna cosa esterna Te può aiutare Sì sì Penso che quello è proprio il potere delle cattive abitudini Noi siamo un ammasso di abitudini C'è chi è più un ammasso di cattive Che chi è più un ammasso di buone Ma siamo comunque un ammasso di abitudini Dovrà Rubino Come avete detto voi Come chiunque faccia sto percorso Cambiare le proprie abitudini alimentari Però se arrivi a fare sta cosa Significa che c'hai abitudini alimentari Per forza Malsane Quindi Se pensi che è una scorciatoia Che fai l'operazione E poi ti dimagrisci Perché tanto c'ho lo stomaco più piccolo Ovviamente sei un povero illuso Chiunque tu sia Perché hai visto pure Te devi allenare Devi fare la dieta Ma è ovvio È ovvio E poi Anche il fatto che ci stia facendo un format Ovviamente Vabbè Parlarne col pubblico Può essere un modo per dare un ulteriore condizionamento Dice così L'ho detto a più persone Per non deludere lì anche Spesso è un po' una terapia d'urto No? Perché magari sai Se poi non porto a termine Faccio pure la figuraccia Con chi mi segue Quindi è una cosa da tassi Però può essere ancora più pressante Te può dare ancora più È capito Sia pro che conto Cioè tu dici io Lo dico al mondo così Non mi posso dire indietro Perché tanto ovviamente La percezione che il mondo ha di me è la mia vita E La reputazione e tutto quanto Oppure Sì Vabbè guarda Per tutte le volte che Rubino ha fatto Hashtag cambiamento Stavolta Quasi Gli è credo No no Anche perché se fa quel passo ovviamente Quello è irreversibile Ma L'unico discorso è che Veramente L'appoi bisogna cambiarle davvero Perché poi Per esempio l'appoi non puoi più bevete cassate Manco l'acqua cassata Ma Rubino non beve alcol Dai Raramente Guardi te dico Nel senso Io mi sono preoccupato Ho visto quando Poi Rubino l'altra volta ha detto No perché hanno detto Che io l'altra volta Mi sono sentito male Lui ha pure risposto a cose che hanno detto Dato che io mi sono sentito male quella volta Perché ho bevuto Mi ero ubriacato Non parlavo di quella volta specifica Quella volta feci un monito dicendo La roba dell'ambulanza L'hanno drogato Gli avevano messo qualcosa All'interno del drink Così dice lui Però la ricostruzione Che lui si ricorda Era un po' vaga Perché c'è ancora il video social boom Lui dice che è stato portato via d'Arsamsara Ma in realtà è stato portato via da un condominio E dice che lui si è risvegliato in ospedale E non si ricordava niente Ma c'è sta il video di lui Che saluta e va via in ambulanza Quindi non lo so Forse lui a distanza di tempo L'ha pure un po' riformata E si ricorda male Ma al di là di tutto La cosa che dicevo io del beve È che spesso e volentieri Si è visto in live Bere anche se fosse in cocktail Due cocktail E spesso si è arrivato da De Più Non è una questione A nessuno fa bene Ma ognuno fa il cazzo che gli pare Però lui ti ricordi C'ha raccontato Che gli è stato diagnosticato il diabete Se te hai il diabete diagnosticato E te bevi Anche due cocktail al giorno Te stai affandando Quindi vuol dire che quello È sapere di avere un problema È stato il dottore Che ti ha detto Guarda questa cosa Non la devi fare assolutamente E te la fai Io ne so qualcosa Perché io Ce sto vicino al diabete Per la merda che mangio Quando vado negli episodi di binge eating E nonostante lo so Che me fa male Me distrugge Poi anche quando ingrasso Me guardo Me sento male Spesso e volentieri Non riesco A fare meno Non c'è niente Che mi possa fermare In certe notti Che io prendo E mi ordino 50 euro di orci Da slurp Tu lo ricordi A me nessuno Mi può fermare Manco se mi tieni Manco Ulisse Se fa legare All'arbero maestro Quindi Deve operare Sulla parte mentale Se no Non ce la fai È tale e quale Ha una dipendenza Non ci vedo nulla di diversa Esattamente È una dipendenza Il cibo sì Che poi È legato a tutta la cosa Pure a beh Dei zuccheri Per molti pure il sale Al fine ne so Droga Cioè Zucchero È una droga A tutti gli effetti È il corpo che ti chiede Quella sostanza Comunque Vediamo il video di Rubino Abbiamo parlato Se ne vuoi parlare Chiamami Scrivimi Se voi parlate Se vogliamo confrontare Le cose che ci succedono Così come penso Chiamano ognuno di noi Perché Io tutte queste robe L'ho passate E ho passato pure La demotivazione De non potermi più allenare Proprio perché Veramente C'è stato un periodo L'anno scorso Che anche se Sollevavo un peso Da 5 kg A schiena Mi gridava pietà E quella manco Potevo andare in palestra A fare le cose Che facevo prima Quindi posso capire Come ti senti Parlane con noi Parlane con Cioè Tanto ce l'hai Gli amici Stiamo qua Dai Vediamo Vediamo questo video serio Io sono una brutta bestia Video serio Molto serio Eccomi qui Arrivato il momento Sono David Rubino Ma ormai mi conoscete già Sì Sono il ciccione Il porco Il maiale Colui che rimorchia E bacia solo se paga Anche se non è vero Perché secondo questa società Se non sei di bell'aspetto Non puoi andare da nessuna parte Io ho passato gli ultimi anni Critica sociale C'è sta C'è sta Anche se smentire Dal fatto del conoscitore Lui Cioè Nonostante sia del bellissimo aspetto Non va da nessuna parte comunque Quindi Anche questo fatto è sconfessato Comunque andiamo Quindi comunque Mi piace la critica sociale Di Rubino Cioè Se non sei di bell'aspetto Non vai Vabbè No In certi ambienti Un po' Diciamo obietto da visita È fattuale È fattuale La mia vita A sentirmi dire solo questo Oh fai schifo Ciccione Do cazzo va questo Marrotoli Bello eh Immaginate sentirlo Tutti i giorni Da tantissima gente Ho fatto mille diete Sondini Tutto ho fatto Ma alla fine Sondini Ah Il sondino Ah ho detto Sondini Che cazzo Chi è Dini Che sei Dini Sondini Sondini Ma collata pure il sondino Sondini è un altro figlio di Goku Tipo Goden Sondini Ma i sondini al culo Ti mettono il liquido Direttamente dal naso È tipo quando in realtà Certe persone lo fanno Sondino nasogastrico si chiama Che passa dal naso E non so bene come opera Però è un altro tipo di affronti Ma una cosa Ho visto quando stai in ospedale Che non mangi e c'hai la flebbo Qua è tipo una cosa Solo nello stomaco Mettiamo una così Invece di mangiare C'hai quella roba che ti nutrisce E quindi dovresti perdere i chili Sì Ti dà un litro Tipo di liquido Sì sì C'è un liquido apposito Mazza Fantascientifico Tutto ho fatto Ma alla fine Sono sempre così Tu dici Vabbè Ti puoi accettare Ma che te frega Omo di panza Omo di sostanza È brutto È brutto perché Per come sono io Sto sempre attento Ma sto video che è Questo video di sottofondo Cos'è È lui col cane Non so se è lui Tipo Ma è lui È lui Allo studio del dottore È lui È rubino Ma certo che è lui È rubino Ma che si è portato Yoshi al dottore Ma forse è stare a casa No sta a casa sua Sta a casa sua Sta a casa sua E guarda il vuoto Bene Sto cercando di capire La costruzione artistica È Yoshi oppure un altro Shiba Sembra No è Yoshi Senato Akita È un altro Yoshi È Yoshi E non lo puoi sapere Le spalle Gli Akita si assumono tutti Sì Vediamo un po' Probabilmente Yoshi Rubino è così Io non so se C'è una spiegazione Simbolica Al fatto che Rubino Non lo guarda mai il cane Cioè il cane cerca Le sue attenzioni Rubino guarda sempre altrove Guarda eh Perché sta pensando Forse vedi Guarda il muro Ora siamo arrivati qua Che bella cosa che hai notato È tristissimo È tristissimo certo È un sacco di modi Ancora più triste Che sta nella sua mente Rubino in questo momento Ancora anche il cane Certo Sta nei film Della sua mente Chissà che cazzo gli dice Una piccola critica Però la voglio fare Rubino Non sia mai però Che lui va Va al Samsara Per tutto quel tempo È stato tipo Tre mesi A Riccione Il cane Il cane Cioè Si affeziona a te In una maniera Se sai Quello che lui riconosce Come il papà Che il cane In quei mesi soffre In una maniera Io come dice l'ho Con tutti quelli che Dicono Posso andare in vacanza Al resort che ho scelto Non può entrare il cane Quindi l'ho fatto Una pensione per i cani Lo lascio tre mesi E faccio tre mesi E manco lo guarda Scegli un altro resort Per Dio Poi io ho un rapporto Morboso col cane Cioè proprio È una roba tipo Dei simbiosi Però Dio Dio cane Eh sì Che è un complimento Ovviamente Oh sta cosa Mi siedo su sul letto No poi magari il cane È molto affessionato Al fratello Ai genitori Ma chi si fa Però magari Se fai per il lavoro Tre mesi Il cane soffre In una maniera Anche perché Se sei in Italia Se può trovare Una soluzione Ha trovato tipo Una pensioncina Cioè guarda Vedi il cane Cerca le sue attenzioni Gli mette il muso Nelle mani Lui neanche Degnandolo Di uno sguardo Grattino Di circostanza Poi subito si leva Il cane Ci rimane male Lo guarda Lui proprio Evita il suo sguardo Vabbè sta a pensare Operazione È più importante L'operazione Che dare amore Al tuo animale domestico Il linguaggio Il linguaggio È fatto apposta È questo senso Di tristezza È un messaggio Cinematografico Aspetta ma lui È parlato dopo È voce pensiero Perché è ridoppiata Lui ha fatto Oppure sta a parlare lì No sta a parlare Sta a parlare Ciao Il mic è qua Però secondo me È ventrilo Sono i suoi pensieri Questa con la bocca chiusa Questa è un filmato Lui muto Poi c'è la voce pensiero Ok no Non è voce pensiero È ventrilugo Sì È uno spot Metanarrativo Come quelli di Saidonia Potrebbe essere Telepate anche Rubino Magari Telepate Ma se sono i pensieri Di Yoshi Invece no Dai forza Torniamo alla dimensione La voce di Rubino Torniamo alla dimensione Appartenenza I pensieri Ok dai Che vuol dire dimensione Poi che vuol dire dimensione È lo spot di Saidonia Non lo sai a memoria Già Io non so Chi cazzo è Saidonia Saidonia è Chiara Ma chi so Chiara Ma non so chi Guardate Saidonia Per me Saidonia È una parte Una regione Pianura Una pianura su Marte Si chiama Saidonia Sì E c'è anche Oddio Oddio c'è il punto di atterraggio Quella è Starfield Ah vedi Il luogo Quello dove c'è Il maggiore insediamento È Saidonia Quindi Saidonia Facesse poco il figo Che ha trovato Che c'è Arnick Che è un plagio Ok è un plagio Sei un pezzo di terra Pure su un altro pianeta Neanche così rilevante Nel nostro pianeta Disabitato Non so che sta a fare Non su Starfield Ma nella realtà Disabitato Non c'è vita Non c'è vita Intelligente Non c'è vita su Saidonia Non c'è vita su Saidonia Questo è quello che ho da dire Una frase bomba Per chiudere Io ce l'abbiamo Ho fatto mille diete Sondini Tutto ho fatto Sondini Alla fine sono sempre così Tu dici Vabbè Vedi che è una voce pensiero Non stavo a parlare a lui nel video E poi si è fatto il video Che sta a lui Che guarda nel vuoto E c'è la voce pensiero Certo Che ce l'ha ridoppiato dopo Poi non so un dottore Non so pazzo io Ma l'hai preso per scemo Un attimo fa Ho detto no certo Lui c'ha il microfono lì Ma se vedi Guarda che c'ha il mic Sulla maglietta Su respira Guarda qui sotto Guarda bene Ma ti è spuggiardato Prima invece C'avevo ragione io Sì sì Sta maglietta L'ho comprata pure io Perché Quando me la metto Al mattino Allo specchio Per ricordarmi Come si continua A vivere Che maglietta è Che ci sta scrivere Respira Cioè lei ti dice fallo E tu ti ricordi di farlo Però poi non ti ricordi Come si fa Stang Eh sì sì Ti aspetta come però A volte Lo faccio pure contro voglia Che non mi va più di tanto Sai che a volte Mi scordo come si respira Devo mettermi là E farlo guidato È la cosa più Più preoccupante A volte io mi scordo Come si respira Ma lo sai che c'è scherzi La prima fuori Un po' succede In condizioni diciamo Cioè a me in momenti Di stress forte Mi capita che vado In apnea pesante E mi sento che sto svenito E mi rendo conto Che non sto più a respira Mi è capitato Che a volte Mi rendo conto Che stavo trattenendo Il respiro Sì Non me ne rendo conto Stavo trattenendo il respiro Da me Ma non mi fate pensare Pure a sta roba Che poi Cioè se mi viene in mente Sì tu lo fai spesso Come battuta Mi sono scordato Come si respira A me è successo Di pensare A me è successo Sì sì A pure atteggialo Pure a me Sì sì Non lo stavo a scherzi Pure a me E scordo come si respira A volte Comunque io non è che Bullizzo Rubino Io gli dico Quello che penso La gente Ha terrore Poi questa Rubino Gli dà una dose Di verità ogni tanto A sta gente Gli fa bene Ma poi non mi è sembrato Che poi capito Con tutti I crismi I crismi Della leceresse Della finesse C'erano stati momenti In cui magari Hanno fatto battute Quelliardi Che oggi proprio no Hanno fatto un discorso Prima serio Consiglio E poi abbiamo detto La maglietta Respira Vabbè Vabbè Cazzatine Poi vergognati Per Yoshi Ma questo è un altro Discorso Quel discorso L'ha fatto Dave E sono completamente No su quello Io perché Sugli animali Sono un po' come Davide C'è una roba Una cosa mia Personale L'avrei fatta a chiunque Ma non è che se Rubino Può sta a fare l'operazione Non può più subire critiche Non so niente E te vai Ne ammazza una persona Eh però dai Sto facendo La sdifica stella C'è un senso Le critiche Aulse dal discorso Di immagrimento Rimango Poi comunque Questa frase Non c'è te molto Corbino Ma a fa la vittima Si può fare Si possono fare peggio stragi Col bianco e nero Sì Nella musica sotto No il fatto è che poi Non sono dietologo Però vedendo È una cazzata Ma vedendo un milione De volte Il programma La Sunno Zaradan Sentire quello Comunque il discorso Io qualunque cosa ho fatto Non dimagrisco È tipo fisicamente impossibile Qualche errorino L'hai fatto Non c'è niente di male Però non è che perché tu O c'è una cosa Che è diagnosticata O magari la tiroide La tiroide Però là non devi fare operazione La devi fare una cosa Non so perché Qualunque cosa faccio A me non fa È perché ti senti in dovere Di giustificarti Col mondo È normale Può succedere Magari Un dolcetto in più Se uno che ingrassa Più facilmente Fa un po' meno movimento De altri Pochettino Infatti Non è che In una situazione grave Lui A vederlo Insomma Ma secondo me Se lui continuava Con quel discorso Che si era interessato Del pugilato Quando è andato A fare l'incontro così Perché lui si andava A allenare Due o tre volte A settimana Tu conta che Se continuava a fare Quello Lo continuava a fare Tutte le settimane O anche la dieta Che gli aveva dato Ragazzo Forse Boccali Gli hanno dato Un piano da seguire Dieta E Allenamento costante Cioè soprattutto Allenamento prepugilistico A livello di cardio Ma che scherzi Ti asciuga Come cosa Come una sardina Sì 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 Così tu dici Ma tu Riferito a un tu Rimetti indietro Mi sono perso Tu generico A Sondino Tu popolazione Ripartiamo da Sondini Che è importante Tutto ho fatto Ma alla fine Sono sempre così Tu dici Vabbè Ti puoi accettare Ma che te frega Omo di panza Omo di sostanza È brutto Ma chi è che dice così È brutto perché Per come sono Io Sono sempre Io ho detto spesso Proprio con quell'intonazione Vabbè Ma accettate così Di averlo detto Proprio a Rubino Allora stavo citando te Io ho detto Spesso A Rubino Che te frega Omo di manza Omo di sostanza E ti ha usato come esempio Di persona stupida L'hai traumatizzato Marco Ma non c'è niente male Con queste cazzate Ragogna Di queste frasi fatte Ma lo penso Che l'altro pensa Che lo sta a bia per culo L'altro giorno Gli ho sbroccato a Marta Perché stavo là Stavo tipo Davanti a specchio Stavo grassato Stavo grassato Ma no guarda Che tanto A me piace lo stesso Mi sta a dar contentino Mi devi dire Che faccio schifo Che sono una merda Che vuol dire Mi piace lo stesso Capito Ma purella Ma magari Mi piace pure un po' Con la panza Sì Però mi devi dire Mi devi dire Senza di un po' Così io mi motivo No Così mi motivo Quello ce può stare È tutta carina Ma non ti preoccupare Cioè nel senso Dipende Sono pure gusti Cioè C'è chi gli piace Magari Non è che uno Deve essere magrissimo A due chili in più Ma non possono anche Non guastare A volte Esatto Quindi conferma Che sono ingrassato Che sono ingrassato Quando le dicono Vabbè Però stai bene lo stesso Significa che È una forma diversa Comunque Comunque sei peggio Significa questo Sei peggio Ma me lo faccio Andare bene Se no uno Sai che dovrebbe dire Se no uno direbbe Vabbè Non l'ho mai pensato Però sei uguale Però sei uguale Lo stesso Significa che c'è stato Un cambiamento Di qualsiasi tipo Esatto Sì Ma guarda Che invece Io non noto Sei uguale a prima Ma poi Se tu uno ti dice Che sei uguale a prima Pensi che mi stai Più a per culo Poi tanto ti rispondono Che cosa dovresti dire Uno non sa mai Cosa risponde Cioè è diverso Già sotto la panza La mazza avanza Già quella è un'altra roba Se avessi detto così Marta Questo non mi ha mai retto Devo dire Però me lo segno Ma il discorso È che la mia mazza Non è che avanza Cioè quella è una buona mazza Ma non è che Cioè se più ingrasso Più avanza Anzi più ingrassi Più si ritira Perché hai visto Come funziona il pene No? Che tu c'hai tanto grasso In quella zona Ti è circondato Ti è ritratto Esatto Basta che è più lungo Della panza Credo sia quello Il senso Beh sì Deve fuoriuscire No 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 Perché c'hai pure grasso In quella zona là Diciamo inguinale E poi si fa tipo La conchetta Infatti io sei grasso Qui diventi micropenico Poi magari Desce fuori Ecco Meno è la panza Più la mazza avanza È al contrario Era così in origine Sul pube Ma dipende E tu dici Uomo di sostanza Accettati Che non esce La panza Dalle È schifo Non mi tolgo mai La maglietta al mare Perché mi vergogno Alle volte Non riesci nemmeno A avvicinarti Ad una ragazza Anche se non è il mio caso Maurizio Merluzzo Una volta Metti la tua foto Nudo Cellulare come sfondo E quella sarà La motivazione per dimagrire Non ce l'ho mai riuscito Faccio proprio schifo C'ho una panza Anche perché poi Non puoi più andare in giro Poi poter aprire il cellulare In pubblico Adesso poi guarda Senti fammi vedere un attimo Se non ti arrivo per messaggio C'è un po' Un po' problematico Vabbè certo Da ottimi consigli Merluzzo Complimenti Ho digerito un cocomero Dopo tutto questo Vi posso dire Che è il momento Di cambiare È il momento Di dare una botta A questa vita Adamo una botta Guarda io ti dico una cosa Quello fa di magrire Eh dare una botta Una botta al giorno Leva il sondino Un paio di bottarelle al giorno Ho visto gente Proprio Scomparire Sì 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 Non ce ne devi Beve troppo sopra Perché quelli che ce bevono sopra Poi comunque compensi È pur vero che poi che ha la pelle Cioè fai tipo effetto mantello poi Fai tipo i pipistrelli Fai la pelle Se sei stato per tanti anni Sovrappeso Se perdi tanti chili Poi dopo ti fa per forza Pure addomino plastica Ma perché implica il fatto Che non ci sia sport Cioè lo sport comunque Aiuta tanto Pure sul fattore pelle Elasticità Eh ma quello Purtroppo Se è stata tenuta Tirata per tanto tempo Soprattutto quando passi 30 È normale che Cioè la pelle perde un po' D'elasticità Per forza Quindi se fai un dimagrimento enorme E io questo mio padre Ha perduto Quasi 60 anni Cioè 60 anni Però nel senso È dimagrito qualche anno fa Parecchio E gli è calato Poi la pelle È normale E là ti fa tipo un'altra operazione Per rimuoverla Sì se là ti fa l'addomino plastica Toglie una parte di pelle E te la tirano un pochetto È il momento di dare una Una botta Una botta Ah ok È sempre la stessa cosa Come questo sarebbe Davvero un pezzettino solo È il momento di dare una botta Come se uniria A te che ha amici tua Ma che cazzo vuoi Di queste cose Io non c'entro nulla No no Gli amici che hanno questi problemi Che succede Nel mondo dell'arte È il cinese A questa vita Per questo Amare gli estremi Estremi rimedi Ho deciso di operarmi È una decisione molto Molto difficile Ah oh Mariano un messaggio di ciccio Arubi Ma che te devo di da Slivegastrectomy Calcola che a me Mi ha salvato la vita Con un aiuto Se può arrivare il risultato Non sarà semplice Ti passeranno un sacco Di te in testa Che poi non magnerai più Come farai Senza mangiare Oh mio dio Il cibo Blablabla Però poi ti abituerai E ti diventerà La normalità E poi Uno si deve abituare E quello Ho sentito una storia È vero che quando uno dimagrisce Diventa stronzo No? Diventa molto più sicuro di sé Che la cosa è un po' diversa C'è forse questo luogo comune Tra le persone grasse Che quando uno dimagrisce Diventa stronzo Che tosia classico Proprio Questa parola la dico sempre Ma mi piace Tribalismo Cioè è uscito dal Non è più grasso come noi Parte invidia Sicuramente parte No me sta antipatico Guarda come mo Cioè pure se magari Vedi un grasso Da grasso Vedi un tuo amico grasso Che dimagrisce Diventa pure più sicuro Di sé Sai come Te roda il culo Lo dicono pure i magri Sai come inizia a odiarlo Mi sembra questo Aspetta ma Ciccio È effettivamente successo Cioè una volta Ti ricordi che era Proprio simpaticissimo Il king dei pacuri Gli volano tutti bene E ultimamente Invece Infatti è palesemente A parte che sta parlando di sé Ma in realtà è sempre stato Un po' con quell'attito De Ciccio Io adoravo Ciccio Io adoravo Ciccio Prima Secondo me Corrispondenza D'operazione È cambiato qualcosa Ma forse c'è una Correlazione reale Ma guarda che è una cosa reale Non è percezione È proprio lui che è diventato Sì 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 No con lui Sott'accordissimo Perché Davide Prima ha scritto un chat Ma lui lo è sempre stato È vero Prima non lo era Magari meno Era un po' più Era un po' Cotte Prima era proprio Una brava persona Dai Dai una volta Era veramente Una brava persona Ciccio ai tempi Mo invece fa schifo Era una sensazione De fiducia Mo invece Non mi piace più Però questo luogo comune Che lui ha detto Che quando uno dimagrisce Diventa stronzo Giuro non è la prima volta Che lo sento in vita mia Ho già sentito Sto discorso Sì sì È un luogo comune Come avete già detto Lo dicono pure i magri Però è vero magari Che il discorso E facevi dei grassi Però è una cosa Che dicono pure i magri Di chi è dimagrito Insomma Magari era grassi E dimagrito È diventato stronzo Ma c'è un po' Sto luogo comune Magari esce forse La personalità Esce un po' più fuori Prima era un po' Più sovita Non lo so Il professore Matto Penso sia il massimo esempio Parlava di quello Il professore Matto Parla di questa cosa Sì sì Oh ma di eccemenzi Pure No che cazzo Come si chiamava Coeddy Marfin O quella cosa Dei magri Potrebbe pure essere Come si chiamava l'altro Potrebbe pure essere Quella cosa Orribile Che magari Quella cosa che ha detto Pure Rubino Che se non si è bello Non viene accettato Può accadere anche Quel meccanismo Che un grasso Che dimagrisce E diventa magro Poi viene comunque accettato Gli sta più simpatico A tutti O comunque Diciamo sei Non sei più Quello grasso Ma magari sei pure Puoi essere pure amico nostro Se magari prima era escluso Invece no Può accadere pure questo Sì ma poi molti Pure perché magari Quando vedono una persona Un po' più grassa La riconducono subito Una cosa buffa Una cosa che fa ride Esatto Viene preso meno sul serio Invece poi viene preso più sul serio Guarda è dimagrito Perché è più bello Secondo me Con il discorso Delle ragazze Come si approccia David Potrebbe avere Un contracolpo Negativo quasi Perché spesso e volentieri Ti circondano Delle ragazze Quello simpatico Quando invece magari Te sei reso Fisicato Fico Non dai più Quel senso Di innocuo E quindi magari Manco Se tu Magari ti scrivi su Instagram E ci provi Già magari te fermano A priori Perché magari Non sono interessate Te la buttano Su un piano differente Non lo so Perché poi là Ci sta proprio Il discorso Passeremo Al metodo Weinstein Però che deve fare Sto povero cristiano Dave Così gliela metti Proprio che non c'è soluzione Non c'è soluzione Le donne Quando Se c'è prova Uno tipo Davide Con una Il discorso è Gli piace fisicamente Gli interessi Vuole venire con te Ok Se è interessata Le dice sì A tutta la Se non ha nessun interesse Non te rende manco Come Vabbè Magari Sta scherzando Oppure Te pare Che se pensa Che No Te dice Deterrente proprio Perché dice Questo qua Se pensa Te potremmo Se scopare Quando gli pare Sì Perché è figo Guarda Io preferirei comunque Vivere l'esistenza De marra No Cioè perché Nel secondo caso Rimani A orbitare Attorno alle ragazze Come appunto Un token De L'amico buffo Capito Cioè magari Ti lascio Se puoi mettere Questo è una possibilità Per entrare Nelle grazie di qualcuna Poco come l'amico gay Diciamo Per me perdi tanto De quel tempo Però poi magari La convinci Ma che ne so Mamma mia che mentalità Lo so che non è la tua Che te devo dire Però lo so Sì 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 Io Cioè divento amico Poi magari Piano 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 Non ci sa mai Ha indicato me Perché l'ho detto io Ragazzi Ok che sono sia grasso Che buffo Vabbè dai Dobbiamo pensare A fare delle terapie Cioè delle terapie Delle teorie Io a carnevale Mi vestirò Da Winnie the Pooh Carino Eh faccio vedere Con il mio miele Che scozzo Che un attimo L'ho proprio visualizzato L'ho proprio ucciso Che scherzi Trovate me Con il spaglio Di Winnie the Pooh Mi faccio A yellow face Mi faccio la yellow face Vengo qua Con un barattolo di miele Ci infilo le mani dentro Porco di Dio Bello Faccio lo shampoo Le miele Tutta la mano dentro Tutta appiccicosa Madonna santa Io ricordo che Alle medie Mi chiamavano Pansoro Perché ero Più cicciottello Ho ricevuto Un paio d'anni De prese per il culo Poi sono dimagrito A caso Ma Mi sono proprio Reso conto Pure come mi trattava La gente Quindi Io sono stato Da una parte E dall'altra E Diventa molto Che è una cosa Un po' diversa E quando ti conoscono Che se tu sei Un gran bambacione Sei quello Dimido A chi diventi Molto più sicuro Di te E c'è una crescita Personale Allora ti danno Stronzo Perché fa molto Più comodo C'è una cosa Che non manca Rubino E proprio la sicurezza Di sé Nel senso Uno mega spavato Come si pone con le persone Cioè riesce a parlare Con tutti Anzi Certe situazioni In cui lo vedo Io mi sarei Bloccato Rubino Sembra stare a suo agio In qualsiasi contesto È ancora più Camaleontico Di me Diventa sempre il boss Della situazione Dove sta Vero Io ti ho parlato Ricordiamo Ho salutato Mi madre Che non capiva Cosa succedesse Ho salutato Mi fratello E sono andato A fare la prima visita Regà Mi stavo a cacassotto Meno male che c'è Giulia Che mi ha accompagnato E mi è stata vicina Anzi Sono bello Devo Non sincero Ecco Si è agitato Per la visita Come hai salutato Tutta la famiglia Vabbè C'è sta No perché fai la visita E quando vai la senti Devo operare Ah forse era agitato Perché magari Diceva che non poteva operare Eh sì Magari Cioè sembrava la paura Di morire Forse lo operavano Hai capito Devo operare Tu fratello Perché C'è paura di morire La visita Dove è conoscitiva Piacere Ma finalmente Magari può anche avere paura E ansia De spogliasse De fare una visita Ah ok De fare una visita Corpore Chissà dove è andato A fare questa visita Sai che quel posto Non è nuovo Forse ci è sentato a cagà Ah Perché stava a cagà sotto Effettivamente Ah c'è un collegamento Un vero sicuro Che a un certo punto Tirasse fuori il placement Presso lo studio medico Dove era andato Magari per cercare Di poter rimediare Con lo sconto Potrebbe essere ancora Che arriva Ho parlato col dottore Che magari ci mette il tag È un bravissimo dottore Vabbè dici che con sto video Che sta a fare Non sarà un ADV futuro Magari Potrebbe essere No io l'ho pensato Perché l'ha fatto molto bene Quindi invece no Vabbè se l'ha fatto solo per Informativo Il dottore mi ha rassicurato E sicuramente Ci vedremo Nel prossimo episodio Dove vi racconterò anche Le tre visite Prima dell'operazione Dai regà Tutti ce la potremmo fare Qua parlavo Però non era sì Tutti ce la potremmo fare Nel senso Ce la faremo Poi c'è Davide Non è detto però Che ce la facciamo Che ce la potremmo fare È una verità universale Ce la faremo Il finale è bello Perché è aperto Perché non ti dà Una certezza assoluta Tutti ce la potremmo fare Sulla carta Però Non proprio tutti C'è chi non ce la fa C'è pure chi Non ce la potrebbe mai fare Secondo me Tu dici No sì Esiste qualcuno Cioè ti vuole dare Un po' di sicurezza In te stesso Ma non troppa Un pizzico proprio Capito Dai ero bene Comunque in ogni caso Metti che alla fine Dei visite Ti dicessero Che non ti puoi operare Fidate Sei pieno di amici Atleti Anche Anche tramite quella strada Seppure ci ripensi All'ultima Magari ti sembra troppo invasile Anche tramite quella strada Fidaci Che non sei lontano Da Dalla meta Che vuoi arrivare Cioè lui Gli serve da perdere Una ventina di chili E una ventina No dai Oppure La bamba La bamba La bamba Una ventina di chili Ci conta che mia madre Mia madre con l'ultima dieta Che ha fatto L'ha cominciata l'anno scorso Ha perso 24 chili Settimana scorsa Stava al ventivattesimo chilo Quindi cioè Comunque è una signora Il maestro pure Ha fatto vedere Di 60 anni Che comunque Non va Non può andare in palestra A fare la ventina di chili Semplicemente va al lavoro Tutti i giorni Però si è messa a dieta Ha seguito nettamente La dieta Gli ha dato al dietologo E ha perso 24 chili In un anno E qualcosa Quindi Non so Non so Traguardi Una ventina di chili È veramente una roba Così Cioè Se te metti in mentalità Ce la fanno Ma io pure ci ho parlato Ci stanno pure Cure innovative Per diabete Che aiutano pure A dimagrire Boh Vabbè Io spererei Che non gliela fanno fa Perché è un'operazione Bella fastidiosa Ma è scherzi Ma sì Ma secondo me Un percorso Che se ci arrivi gradualmente E ci arrivi senza aiuti esterni Secondo me è un percorso Pure che alla fine Ne sei una cifra più consapevole E Te lo flexi Anche te stesso Mentalmente Molto di più Se ci sei arrivato Tutto farina del tuo sacco Però alla fine La decisione È legittima E poi veramente La parte di scherzi La bamba No a parte la bamba Una cosa seria Perché poi abbiamo fatto ironia Perché noi fanno ironia Su tutto Pure sui morti ammazzati A Cerbero Creepy I migliori auguri De tutto E semplicemente Io appunto Avendone parlato pure io Del mio problema Ma poi ce l'abbiamo avuto Penso che noi tre Marco no Perché è sempre stato magro Sempre che ha addome squartato Molta cifra Non lo so Però noi tre Tutti in un momento Della nostra vita Ci abbiamo avuto Un problema Col cibo Più o meno grande Tu hai fatto un effetto Fisarmonica Che ha nato vita Tante volte Sei diventato Un grasso Un magro Io Non faccio altro Che farlo Quindi Tornando seri Capisco quanto è grave Il problema E capisco che io pure Ogni tanto Sono arrivato a pensare A cose Assurde Di che cazzo Non me dopo Vaffanculo Che cazzo Vado a prendere doping Così che dimagrisco E mi vengono i muscoli Più rapidamente Poi appunto Quando erano cose Molto invasive Per il mio fisico L'autoconservazione È sempre entrata E ho detto Vabbè dai Non si può fare ste robe Però se lui è arrivato A ritenere Come cosa più plausibile Una cosa che è così invasiva E così preoccupante Anche per te stesso Dice cazzo Non me devo andare a operare Vuol dire che Ci ha rappensato E effettivamente Ha ritenuto Che tutto il resto Fosse non valido Se può ritenere Nel senso più positivo Del termine Non inteso come una cosa negativa Se magari lui Quando ci ha provato Quando è andato A impatto psicologico Tutte le volte La risposta Che ha avuto Da se stesso Nel classico monologo interiore È No Non ce la famo Manco stavolta Quella è una cosa Che poi provà Anche se in genere È indirizzata a persone Che stanno in posizioni diverse Se il medico Che lo visita Riterrà che opportuno Nessuno può Di incazzo Anzi Quindi si spera Che poi in quel caso Riesca Al di là Tutto quello che abbiamo detto Si spera che pure la mente Si allinei Al fisico Ero distratto Al guarda Dave No porco Dio Io non ho capito Gianluca Pioggia secca Pioggia secca Sulla mia testa Non mi bagna Ma mi sporca Non è nota Questa porta Pioggia secca Sul mio raccolto Sul mio raccolto Sul mio raccolto Esatto Gianluca No Gianluca è scappato Gianluca Se n'è andato Proprio per non vedere Calcola che ti aspettiamo Tra metoraggi e meteorite Nanna con il sole Giunale e morti Spaccano città Terremoti difendono Mezzo mondo Caosi strada Panico in città Oddio Ero depurito Depurito Nessuno chiama Nessuno l'ene Il mondo è il suo quadro Nonna nonna Della solitudine Armi nucleari Catastrofi naturali E l'apocalisse L'apocalisse Quando il mondo finisce Si è l'apocalisse Mentre il mondo finisce Mentre il mondo finisce Mentre il mondo finisce Mentre il mondo finisce E l'apocalisse Apocalisse Seeee Seeee Ha trovato Adamo Da capo Aspettate Ovviamente Leva sta cosa Leva Gianluca E dai Non ti è piaciuto questo Tribio Non c'è il copyright Non l'ho sentito Tra l'altro Ho chiuso entrambe le porte Stiamo hitando Manco le 8500 8600 Manco le 8500 E vabbè Vergo Gnoso Avremmo fatto una performance Di quelle Invece ve la scordate No se la scordano Ma ascoltiamo le chitarre E va è finita Sul tetto Tutti gli strumenti Le telecamere E' andata così E' andata così Comunque Comunque Invece la performance Che vale la pena vedere Invece che noi Che siamo due Empi ultimi Insinui Del mondo canoro Qui abbiamo Poneta Regà Che è andata X Factor E che è successo E' la seconda volta In a row In a row Di seguito Sicuramente per le sue capacità E non per piarlo per culo Assolutamente Non perché sia una macchietta Io non l'ho visto Non voglio manco vederlo Però si è proprio preso Per il culo E' andata La dimostra del suo talento Di fronte a tutti quanti Questo è la sua entrata Gianluca sei prevenuto Gianluca Questa è la sua entrata Intanto vediamo da qua Poi c'è pure L'esibizione completa Che noi vedremo Perché ha portato un pezzo Non in dedito Ma un pezzo Che noi conosciamo Il mondo loco Ma mi è impazzito Questo è L'audizione Dell'anno scorso Che va proprio Per rinfrescarvi a memoria Un secondo Dai Gianlu Già l'altro anno Era venuto Sì sì E non l'avevano preso Non l'avevano preso Però Però È tornato Bonita E ci vediamo La sua esibizione Completa Agevoliamo il filmato Così un po' L'azisciano Agevoliamolo Ecco Che vuol dire agevoliamo Non è stato agevolato bene Lo agevolavano Eccolo Buonasera a tutti Ma com'è possibile C'è Tago Ma è un sogno Ma sta succedendo davvero Fede Stumato Stumato Secondo me Fede Se lo ricordava Perché c'era pure lui Effettivamente L'unico che non Che non l'ha mai incontrato È Morgan Dei giudici Gli altri se lo ricordano Stai ridete là Quindi vuole seguire Allora vieni qua Ma che state là Non fa un cazzo Vi dico una cosa Allora Obama Ha proibito La visione di X Factor Italia Negli Stati Uniti Ha proprio reso Lo show fuori legge La visione di X Factor Italia Sì sì Madonna Anche se non è più presidente Però ha fatto una mozione Presso il governo Presso la Casa Bianca Ha parlato con Biden Che tanto ci ha Doscuti E' stato E' fatto sì Ma comunque cazzo Però mi sa che Io non sto a scherzare Io mi irrido davvero Con l'opponeta Non sto scherzando Non so Metà sto sentimento Ma lo fa tutti Vediamo i giudici Che ne pensiamo A quanto pare no Che mi rompono il cazzo Da tre anni Lui Davide Quell'idiota di Moccia Infatti è colpa Dario Moccia Effettivamente Io veramente Non ce la faccio più Vediamo vediamo Sono tornato Il grande poeta C'è riuscito di nuovo Congratulazioni Grazie mille L'anno scorso Dobbiamo farci forza Gianlu Eh sì bravo Dave Alza Pompa le gas Agevola Preferirei vedere Come Kiev Preferirei Vai 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 Marco vai Preferirei vedere Che cosa succedeva a Kiev Quei telecamere De Ceduzzo Guarda Grazie mille L'anno scorso È stata un'esperienza unica Mi ha dato un sacco di creatività in più Ho fatto anche nove singoli Ho fatto mondo forte E poi ne ho fatto anche uno Che non è ancora uscito Che si chiama Essermamma E mi sono allenato anche molto Ce ne sa lui È questa la sua voce Essermamma Oddio mio Che genialata Perché Lui lo sa Non può essere introspettivo Come no Il vero artista Si può mettere nei panni Di più È l'unica cosa che non può scrivere un uomo Essermamma Cioè è un grande Però è bellissimo Deve essere La persona più buona della terra Ma dai Ha detto Per scriverlo bene Secondo me Obama si è sintonizzato solo per vedere questa performance Sì Obama Ah beh Me l'avevo rimosso Sono collegati Ma comunque Ha questa voce lui quando parla L'avevamo mai sentito parlare Io no Sì abbiamo fatto la live E io no Io non c'ero Non c'ero Mai vista Purtroppo sì E mi sono allenato anche molto 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 di più Nel campo Della tecnica vocale Della lirica Voglio vedere Due volte a settimana dal maestro a Bergamo Dal maestro di lirica Che è bravissimo Da Morgan Gli ride in faccia Non riesce a trattenersi Vado dal maestro Il più grande maestro di lirica Dice alzate il volume Dicono Eh perché Forse è troppo alto riempio Eh dai va Alzo per loro la passione di qua Ok Pizzicolo Sono tutti blu nel pub Quindi la volontà c'è Sì Sì Degli FL65 Mondo loco Un pezzo latino Ispanico Pronto per farvi ballare Per far Per il genere No Giallo non Non lo insulto Io percepisco Tu già stai pregustando Tipo il Il cringe Sì Ma poi sai che Pure è brutto Per insultare persone in live Così Ma ancora non ha fatto niente Guarda che noi lo facciamo sempre Se stavamo con le telecamere spente Non puoi capire che dicevo Ma noi lo facciamo sempre Perché devi dare Un format Ma qua c'è Vado molto piano Io Vado pianissimo Cosa c'è da insultare Sto da Merino È l'1% Della lagga Ma perché lui è l'unico Che non devi insultare Scusa Non ti sei mai fatto Se io ti chiedo Cosa ne pensi Ric Dufer Ti guardano Ho paura a parlare Capito E tu immagina Il Kaioken Proprio Viene un'aura rossa Si pompano i muscoli Il sangue Che mi ribolle Dai Novo Ric Dufer Copponeta Ric Dufer Vabbè è un coglione Uno l'acqua È un filosofo Rispettabilissimo Appunto No non è un filosofo È uno che si occupa Dei filosofia Non è che Nei libri Che so Dei dieci Cent'anni Dei libri Dei filosofia Parleranno di Ric Dufer Lui parla De quelli scritti Nei libri Allora è proprio Un filosofeggiante Neanche Un filosofo È il freebooter Dei filosofi Cartacei Sicuramente è un F È un F Che può essere Filosofo È lo spero Dei filosofi Grazie È lo spero Dei filosofi È uno che Grazie India Per i cinque O perlomeno lo spero Cinque sabb indiani Grazie mille In realtà lo è Dicono Quindi anche Cioè anche Anche prodotto Lui della filosofia Ma io voglio la live Dove noi leggiamo Per intero Tutti i libri Ric Dufer Quelli proprio De so pugno Dove non parla De altri Ma ci dice Le sue teorie A voi Ti mangio tutto quello Che ho detto Bello Dai dai Bello Bello mi piace Alzare su tutto il pubblico Ne abbiamo bisogno Ponetta Ne abbiamo Ti dà fastidio Ambrangiolini Mi dà fastidio tutto Ho prurito Ho una sensazione di prurito Cioè capisci Sei valfidato Perché prima cosa Tutti ce la potremmo fare E lui Per potercela fare Cosa ha fatto Si è allenato due volte Dal maestro di lirica Due volte a settimana È andato nella stanza Devo spirito del tempo Col maestro di lirica Due volte a settimana è tantissimo Quindi dai Muoveremo i risultati E allora prego Guardalo Già questo penso Che possa far capire C'è uno che ti inizia così No Cioè io chiamerei la sicurezza Proprio che gli fanno Che lo prendono Sotto il braccio E lo portano Proprio via di peso Io lo farei Portare via di peso Dai E lo farò mai No E niente E vabbè Ha interrotto Non è potuta arrivare Di là Penso che non farò mai Con il gesto Però magari si distruggeva Il mondo È bello È un mondo loco 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 Mundo loco La faccia di Fedez Fatene molto La faccia di Fedez E proprio E dice tutto Fateci qualcosa Fateci qualsiasi cosa Scrinate Non lo so Poi c'è sta il play Allora grazie Fedez Se posso dirlo Madonna Un'espressione proprio Che spiega tutto Scrinatelo quando ero il play Però secondo me È proprio quella risatina Tipo di ma chi è questo Io devo dire che Scrinatelo e taggatelo tutti Con lui è il cerbero Non vedevo un'edizione Di X Factor Da un sacco di anni Mi sta piacere Una cifra Fedez Come giudice Non l'avevo mai visto All'opera Top Mi piacciono molto Le sue osservazioni Te l'ho scritto Una sdrubalina Mi sa che non l'hai visto Il messaggio Ma vogliamo fare Quando sono finite Tutte le audizioni Quelle first Quelle prima del bootcamp Vogliamo fare una puntata In cui noi ci mettiamo A fare giudici di X Factor Ci guardiamo tutte le audizioni Con loro E diciamo Noi singolarmente Saremmo dato sì o no Ma quando c'è Prima del bootcamp O dopo il bootcamp Quando finiscono Proprio le prime Queste qua Saranno quattro puntate Di queste qui Poi se guardiamo In una puntata cerbresca Facciamo noi Se l'avremmo fatti passato o no Ma ci sta Ci sta Ci sta Poi ti piace? Hanno detto Vestri che erano prima di ieri Non lo so perché Ah tu dici Se guardiamo I filmati questi qua Le clip loro mettono In chiaro Ma non vi preoccupate Poi Oddio No vabbè Quelle che dici te no Le clip in chiaro no Le clip no Ma che è il lavoro vostro O è il lavoro nostro Sono rompiti i coglioni Pensate solo se vi vuoi piacere Come format Se vi piace Poi ci pensiamo noi Magari togliamo il vote Comunque Fedez Top Espressione Che dice tutto Ambe è un po' cringiata Sì quella sta finge Sta lavorante Sta sua Dice De fammi far così Tutto fuori chiave Tutto schifo Morgan gli sta sciogliendo la faccia Sta andando fuori chiave Prima sorrideva Non è che rideva no Quel sorrisetto Dove sempre un po' Negativo Dovete scrinnare tutte ste cose E anche come Fedez prima Fate la foto al schermo Da Gade Morgan Ma meno male che porta Sti pezzi che fanno schifo Che sono proprio Cacofonici Sgradevoli Io l'ho sentito già Sto pezzo Uno dei pezzi Forse più orribili Mai scritti nella storia Della musica Dall'essere umano Uno dei pezzi più brutti Scritti dall'essere umano Poi lo canta fuori scala Stonato Cioè è proprio una cosa assurda Sì Una cosa proprio Dopo si andava a sentire Quello ufficiale Perché secondo me Fuori scala pure quello Mannaggia Dio Vabbè c'è chi viene preso C'è chi viene preso Perché è bravo E c'è chi viene preso Per essere preso Per il culo Sì 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 Per essere tirati alle uova Vabbè ma era palese Non mi aspettavo Che era stato preso Perché aveva Ha sbagliato proprio Serratura Altro che chiave Nell'esibizione Ha sbagliato proprio Nell'anno prima Ci ha pure provato un po' A cantare lirico Qua ha sbaccato Si è messo Però guardate che succede Sì vabbè Però da avere proprio Black Mirror Una scienza Sapienza rubata Alla scienza Che dire degli altri Che vanno danzando Questo giro tondo Vanno cantando Signore Papà Sacre Passo Passo Complimenti al camera Posso dire una cosa A sto signore Vai Ma battene a fanculo È l'unico Grazie È l'unico Sarà un parente Che ne sai Non è vero Se è parente Il padre Se è parente Grazie per il saluto Gli hanno detto Guarda Lo inquadrano E si anima A regà Questi si animano Quando vengono inquadrati Non sanno applaudire Black Mirror È un oggetto semplicissimo Non è che devi fare Seconda puntata De One Piece Manco un orso Vi metto ancora più paura Non è detto Che stesse guardando lui Magari che sono clip Girate in altri momenti Sì A tempo Va a tempo Va a tempo ed è coerente Con la fotografia Per carità di Dio Sì lo metti a tempo Con un attimo Questi funzionano così Stanno là Tutti pronti così Sì sì Gli ostaggi di buggy Sì 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 Poi tu fai l'interazione Clicchi applauso Sì Non hanno Il pubblico De WWE Smackdown Versus Raw 2006 Che palle Tu ricordi Il pubblico Dei giochini Dei wrestling Dei poligoni Sì Sono l'ultimo 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 Quello che muore Aspetta sentite Quest'attacco Che canna Vabbè facciamoli sentire Proprio Terribilmente E' proprio scritta male La base Perché Che cazzo Non c'è sta manco Se c'è un 4 Non gli davo neanche Un riferimento Sì sì Esatto No vedi che entra Oh aspetta Ma andate indietro Perché non entra sul 4 No Vai un attimo Dai Sì forse sì Forse sì E' a tempo Ma è lui che non riesce A andare a tempo E' lui che non tiene Nel tempo A mente Sì sì Rientra sull'uno Ma è lui che non ci riesce Assurdo perché magari Ultima volta Ultima volta Altre qualità Contate No aspetta No aspetta un po' prima No no 7 2 3 4 1 2 3 Regà 7 e mezzo Ho capito che non capito Non capito un cazzo Non capito un cazzo La musica cassa dritta È l'unica cosa che faccio Nella mia vita Cioè la base Riparte Sul 7 e mezzo Ma non è che è fuori tempo La base Rimane dritta La cassa Rimane dritta Sì 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 Che cosa è 7 No la prima cassa del drop Dovrebbe entrare O sull'8 O sul 4 Già una pausa De 8 è strana Ma aspettavo che Simone non avesse capito Che erano 8 Stai cosa Ma non sarei mai aspettata Venga dai Ti sentimo un attimo Perché No è così guarda 1 2 3 4 Da 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 Giusto? Non ho capito E tu quindi pensi Che entrare Sul 7 Guarda Ho capito A me la cassa Entra sul 7 1 2 3 4 Eres Un mondo Questo stai dicendo Quello tu lo fai inlevare Se vuoi andarci prima Ma la cassa del pezzo Deve entrare sugli 8 O sui 4 Entra sul Entra sull'1 Della terza battuta Secondo me vuole essere un 8 Ma è spostato in griglia Quindi Noi lo percebiamo come 7 E qualcosa Però Eppure che sia un 8 È ridicolo Vogliamo fare un 7 E un quarto E la Chiediamo qua Beh voglio dire una cosa Vi state a capire Soltanto voi due E le altre persone Vi stanno a prendere in giro Senza offendervi Però Io ho l'impressione Che anche Dave Mi si prende in giro Io non ho capito Se sono 7 o 8 Lo sto a fare solo Per far rabbia a uno dei due No ma guarda Non si era capito Che voi non capite In cazzo di queste cose No noi stiamo capendo Quello che diciamo L'uno all'altro Però magari da fuori Incomprensibile Eh lo dico Per l'interesse De chi non capisce La metto su Ableton La metto in griglia E ti mando i risultati Vai Poi verranno rivisti in live Esatto Ti dico quello che ho sentito io Sul 7 c'è un fill E la cassa rientra Sull'1 della terza battuta Vi volete giocare Ci sono due battute vuote Ci sono due battute vuote Sul 7 della seconda Cioè sul 3 della seconda battuta Quindi 7 C'è Stan Phil E riprende sull'1 della terza battuta Quindi per te Entra in 8 tranquillamente Sull'8 È dritto È tutto dritto È in griglia Sì Ok A me mi sembra invece La prima cassa Entri sul 7 Oppure sia quasi un 8 Perché è fuori griglia Spostata Vabbè Poi dopo Guarda su C'è un Phil Dunphy La cosa figa è il balletto Grazie Grazie X Factor Grazie ai giudici Grazie al pubblico Grazie a tutti Ok prendete questa clip No ma hanno dato alto Tutti i giudizi Però ho linkato l'articolo Dove dicono Chi ha dato giudizio Chi ha dato cosa Perché non c'è stato qua Ma c'è l'articolo Ma secondo me Secondo me lui Non se ne rende conto De qual è la realtà Secondo me Sì ma è proprio Break mirror quello Cioè il fatto che Non se ne rende conto Minimamente lui Il fatto che questo Viene chiamato Solo con la volontarietà De prenderlo in giro Che lo facevano pure Sulla corrida Sì sì Però questo vuole essere Un programma davvero Per trovare dei musicisti veri Ecco Vuole trovare una pop star Vuole trovare una pop star Però ormai Un vero artista Ma è una cosa un po' da boomer Però un artista Magari che ne so Un Battisti Non ci andrebbe mai Un programma del genere Oggi E oltretutto È strutturato Per fare audience Quindi pia quelli Per prenderli per il culo Magari sei un coglione Decido che sei un coglione Cioè nel senso È proprio Mi dà fastidio Che ci sia qualcuno Che magari funzionava così Comunque con i produttori Però che ci sia Un artista Che viene messo là Come tu Puoi decidere chi è Che è bravo E può diventare famoso Quando invece L'arte non è così Per me la roba È grave per un discorso Se loro scientemente Poneta ce l'ha là Perché lui si pensa Di essere bravo abbastanza Per diventare un artista A livello nazionale Cosa che non è Però loro Prima cosa Gli danno l'illusione De poterlo essere Soltanto perché Gli serve un token Da prendere per culo È sbagliato Nei confronti di Poneta Per quanto noi Gli possiamo voler male Però sarebbe sbagliato Nei confronti di chiunque Perché lui Ma ritorna a casa Fa oh Mi sa che poi Passo pure alla prossima Divento famoso Oppure lo fai diventare Famoso nel modo sbagliato Perché diventa macchietta Va su tiktok E clip E dico guarda sto coglione Quindi diventi famoso Per i motivi sbagliati La gente poi Te pia per culo Pure per strada E poi soprattutto Hai tolto uno slot Magari a un pischello Che è arrivato là Corsogno Magari uno bravo Tipo quel pischello Ti ricordi che faceva Quelle voci così alte Magari lui ce voleva andare Non l'hanno preso Perché È bravo Ma niente di che Poneta funziona più Per x factor Perché allora Non c'era solo questo C'era tutto un montaggio Prima il fatto che lui diceva Ragazzi sono tornato Eccomi qua Vi ricordate di me C'era tutta una costruzione Quindi significa che Gli autori Se lo so ricordato Hanno detto proprio Creiamo un po' più Di follia È l'elemento folle lui Hai tolto però Uno slot Uno bravo Che magari Cioè poteva facci qualcosa Ma ci stanno quelli bravi Perché questo Quel bootcamp Aveva mandato via Sì sicuramente Infatti lo tengono così Solo per far sedurisate Poi dopo ne vediamo un'altra Che C'è andato Però ce ne stanno tanti bravi C'è andato un ragazzo Che è un youtuber Che è un amico anche Del Pippega E dei Pillas V Che è un carciatore Da paura E ha fatto pure una canzone Tipo meme Lui ci è andato ovviamente Per Spammas È stato simpatico Ha fatto un'esibizione Poi dopo Ve la faccio vedere La canzone Ma l'ho visto tutto Però anche quello Quello che ha fatto Riso con Pollola Quel ragazzo No Ma quello è l'anno scorso Bello figo Quello è l'anno scorso X Factor l'anno scorso Eh quello ti sto a dire Però è un po' tipo Quella roba là Che l'ho linkata Perché pure quella è una cosa Lui non è che è andato Pensando mo passo Perché voleva fare il cantante È andato dicendo Io porto la mia cosa Ovviamente Me faccio vedere E appaio lì Semplicemente perché È funzionale Dal suo percorso sui social Quindi lui Niente di male Che ci ha voluto andare Nel senso Ha fatto bene Perché se c'hai una spot Ti la prendi Però Quelli di X Factor Che selezionano Stesso discorso di Poneta Visto che tanto sai Che non lo prenderai Perché lui Non c'ha le bellità Dei cantanti Lo sa lui in primis Ma danno spazio a un tizio Che magari vuole provare A fare una cosa E vuole diventare un cantante Sì Ho notato che Molti ci vanno anche Per meme Cioè che vanno là A fare i forza Sapendo già che non passeranno A questo punto Ma più è un altro Che poi avete le potenzialità Sono d'accordo Come se dovessi andare io A X Factor Che fai? Fai la memata C'è Duzzo Fermato dai carabini Leggiamo i voti Perché La cosa tragica La cosa tragica È questa Diego Ponesa In arte Poneta Aveva già partecipato A X Factor nel 2022 Senza convincere i giudici Con l'inedito latino Mondoloco In realtà Avrebbe dovuto essere Mondoloco Mondoloco Il concorrente Studioso di canto litico Persevera Nell'intento di sfoggiare Il proprio talento E complice Alla coreografia Studiata Alla dancing school Di Carbagnate Monastero E pure questo Stava dopo Che simpatici Quelli che hanno scritto St'articolo Dancing school No ma lo dice lui Io l'avevo visto C'è stanno a fare Un attacco bot Ottiene Botti rinuttabili C'è stanno a scrivere Bot gate Volume 3 Bot reali Saranno botte reali I mod li stanno a cancellare Vabbè regà C'è mai grave Quanto la cosa Che stiamo per leggere Esatto Ottieni tre sì Di Ambra Da Argen Cioè la Dargen Non me l'aspettavo mai E anche da Fedez Per me O gli autori Hanno spinto Per questa cosa Dico vabbè Fatelo passare Sennò questo Ci ritorna ogni anno Fategli farmi Sono liberissimi Di non prenderlo Però Vabbè Duro e puro Rimane Morgan Che dice un no Sì Ma Diego comunque Prosegue la Eh questa è una cosa Gravissima Come fai a Dagli sì C'è Ambra Fedez Gli hanno dato Perché era il secondo anno Che lo vedevano Perché Non hanno fatto vedere Che è per pena Sì Per il meme Per pena Sì Morgan che l'aveva conosciuto Cioè che non lo conosceva Infatti gli ha detto Di no Eh vorrei Pensavo Morgan Tutto triggerato Sì Sì Queste cose Secondo me Sapia un po' Morgan Ci sono un sacco Di cantanti bravi No Sì Fedez e Dagen Per il meme Magari Ambrangiolini Magari è appassionato Del canto lirico Ma Ambrangiolini Ambrangiolini è bravissima È una showgirl A tutto tondo Sa cantare Sa ballare Dopo anni passati Con Allegri Te le levi Qualsiasi merito Questo è bravissimo Dopo anni passati Con Allegri Conta che Allegri È proprio il king Delle decisioni sbagliate Quindi magari Gli ha attaccato Sta roba Questo è bravissimo Ha accattato un pezzo Di battiato L'addio Con una voce Strepitous Ma vediamo C'è Duzzo Fermato dai carabinieri Che è da ieri Che lo voglio vedere Sto link Dura un minuto Ma io le va E vai Marzia Quindi sta in mezzo A dei cantieri Non so Delle zone sue In live Come sempre Senza interrompere Sarà stato Fermato dai carabinieri Mentre si spostava In macchina Che ne so Marzia partite Ah mentre balla Mo l'ha visti Guarda Giochettario Immagina essere fermato dai carabinieri Stava pestata E hanno fermato i carabinieri Bellissimo Reato di balletto Ibiza Ha rallentato un po' Il balletto Eh sì Ma c'è caso Mi risulta che Questa non sia Ibiza Quella dove sta lui Qua Non me pare Sembra più la Sicilia No no Non è Ibiza Marzia partite Ma è giusto Ecco Già Sei ridimensionato Il balletto Guarda che l'ha Intravisti E arriva Da lui Perché ti fai Così tanto ride Sta cosa Dai è una cosa figa Dai Ovviamente crash band Ma come No vabbè Andiamo avanti A me pareva Tipo un poliziottesco Aia Resbandi tutte tre No Stiamo aspettando Lo sapevo Stiamo aspettando Per la teletromana Ah 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 E accento grave 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 Cento grave Ma si dice Guardi sto lavorando Quindi non mi potrei fare niente Perché sto lavorando Porco tu io l'hai arrestato E portato in carcere Noi mi sono immaginato Un po' PAU Un buco Rosso Ma si riesce a capire In chat Capite che cosa si sono detti Se hai sentito qualcosa Eh no Non si è capito Perché qualcuno Ha citato frasi Tra virgolette Dicono Qualcuno ha citato Tra virgolette Vi serve un mandato Ma se stavano immaginando loro Si non credo L'abbiano detto Comunque Supporto Spese mensili Zero Santo Dio No Aiutate Supporto Spese mensili Zero Su 200 euro Ma facciamo qualcosa Ragazzi E se non li Sono tirchi Capito Se non li raggiunge Che succede Che ha detto davvero così Vi serve un mandato Ma quello è oltraggio A pubblico ufficiale Ma io l'avevi subito Ma per far che Per prendere il telefono È vero Proprietà privata O no Non lo so Vabbè Ma dai Comunque c'è duzzo Vabbè Ma sti cazzi Cioè io Io ero più preoccupato Dello zero euro Su 200 Io non voglio C'è duzzo Sulla coscienza E se non raggiunge Questi 200 euro E vai a donare qualcosa Ma vai a donare qualcosa Dagli un 100 euro No ci penserò io Sì 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 Non voglio che Ma guarda L'avevi servita Eh No cosa Che cosa ho servito Ah perché stava per farti Ma guarda Non credo Che muoia di fame Vabbè Marco L'hai appena detto Ma guarda L'hai appena detto tu Marco Vincognoso Ma in realtà Non l'aveva pensato nessuno Solo tu Solo tu L'hai pensato Marco Ha risolto Ah ok Volevo solo Non vorrei che mori di fame Non vorrei che mori di fame Vabbè Ah dopo quella No no Aiuto Che squali State a arrivare Ello Crocian Ma cosa hai fatto? Siamo qua Siamo qua Non è successo niente Però aspetta che si è impigliata la camera Simone la sta Che squali State a arrivare Perché va la sigla? No no Siamo qui Siamo qui Dobbiamo capire Lo zanone Io non devo fare un cazzo Però vediamo sta cosa Dobbiamo capire lo zanone Che cosa vuole Come è fatto? No 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 Il dono Comunque come hai fatto la bottiglia Potevi prendere mille cose E hai beccato L'unico punto Non c'era niente Un cecchino al contrario Dov'è zano? Questo è zano Questo è zano Allora guarda Andiamo a vedere zano C'è una pazienza Che è marra? Cos'è? È marra quando si allena al mattino Non l'ha fatto? No dai Ci hanno fatto No Ci hanno fatto per regalo Vittilo sulla scrivania Coglione Mettolo là Ma se no rompe Dai dai Che è tanto bello sto cosa Ma non si può rompere No non si rompe regà È tipo un calzino Che ne so Sembra È vero È vero Sembra una cosa Delicatina Il punto è bruciare la faccia De Montemagno Ma quella è la nostra effigie Cioè stiamo praticamente No la faccia De Montemagno No Prendi Gesù Quello invece si rompe Questo No guarda Gli fai malissimo Gli fai malissimo Se gli lanci questo È delicato Quello si rompe sicuro Dura un minuto Dura un minuto Ti è già Già si è rotto Che carino Che carino Inquadrati un po' No che carini Che carini Che carini No anche Vediamola ancora Che carini Da qua è storto Poi uno è nero E uno è arcobalè Capito Marco aiuta Dai Marco Dai No dall'altra parte Stiamo al contrario Vabbè Vabbè Non siamo neanche Che voglio Fai più la gag Quella del coso Dai Che carini Inquadrati un po' Mi sono pigliato tutto Se volete Dai dai Capito Che uno è arcobaleno E uno è nero Io lo dico Per i daltonici Questo treppiedi È un po' scrauso Ci vuole una cifra Metto dritto Regà Un attimo L'ultimo L'ultimo Lo zanone Eccolo qua No quello prima Zano È stato utilizzato L'immagine di Zano È stata utilizzata Con sua volontà Come la nostra Gabrone Sì è vero Con Big Lucas L'hanno utilizzato Eh Deve fare qualcosa Zano C'ha 20 centimetri In meno di te Quindi fanno tipo Vedere che lui Sta vincendo A questo gioco Ma non ci ha mai giocato In vita sua Immagino Zano A sto gioco E mi sa di no Abbiamo accettato Una dv con la sua faccia Questa è una cosa Gravissima Questa qua Questa è una cosa Gravissima In caso lo avesse accettato È molto grave È gravissimo Io posso capire Che lo fai con noi Con il gabrone Che comunque Siamo delle nullità Ma se lo fai con Zano Io mi incazzo Perché Zano è un grande Perché con Zano No No Non è male questa Perché lui Includendo la negazione All'interno del suo nome Tu basta dire la prima parte Divide la seconda Perché il no Non devi dirlo aggiuntivamente Cioè fa già parte Della parola Zano Zano È bellissima E beh mazza Grande slogan 45 mila euro Mamma mia Tutto bislungo Vedi Gravissima L'immagine di Zano Oserei dire Stuprata Zano Da questa dv Fai qualcosa O chi per te Chi gestisce la tua immagine Questa è una cosa inaccettabile E se un bambino Cade in questa truffa Perché vede te È una cosa Cioè ovviamente Tu non hai la minima colpa Però bisogna fare qualcosa Perché sono gli insinui questi Però se lui non fa niente Uno potrebbe pure pensare Stupido E in mala fede Che o ne è al corrente O ci ha collaborato Cosa che non è Quindi è proprio per sua tutela Suo interesse Per non rovinarsi l'immagine Deve far cessare questo abominio Ma poi dico una cosa Ma i carabinieri Ma che cazzo fanno in questi casi La fermace Duzzo Che non stava a fare niente Invece di occuparsi delle cose serie Tipo l'incolumità L'immagine dello zanone Sì Secondo me Magari sono App indiane Pure se sei in italiano Cioè non lo so Vagli a trovare questi Capito Andiamoci noi Vai Andiamo Vagli a trovare Vai Vagli a trovare Allora Allora il Cerbero Fa tipo a latino Fa tipo a latino Con l'Ucraina Da domani Ufficiale il Cerbero Parte A 15.000 sub A 15.000 sub Il Cerbero parte E vai in India A scovare i responsabili Vagli a indonesia Andiamo in India Andiamo a Nuova Delhi Cominciamo da là Da là chiediamo informazioni Poi troveremo Quindi possiamo avere indiani reali Chiunque incontriamo Per strada Se famose qui su Instagram Allora Per arrivare a Nuova Delhi Sono A piedi No non andiamo a piedi Vabbè andiamo con l'aereo Poi da lì ci muoviamo a piedi Con gli autobus locali No io ho paura dell'aereo Io vado a piedi Andiamo col treno Andiamo con l'Oriente Express Voleva un peregrinaggio Come pure l'aereo Sì vorrei andare a piedi A Nuova Delhi Sono 66 giorni Ma sì ma sto 66 giorni a piedi Allora Ma però sono 7 ore di aereo Neanche troppo Ma pochissime Allora se a latino Ha chiesto per se stesso 500 euro al giorno Chiedeva per stare Vabbè non puoi fare Paragone con la latina Allora noi si dobbiamo Fare pagare in lingotti No 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 noi ovviamente Cazzo lo so Magari potrebbe essere Fra sab e donazioni Un 4 mila euro al giorno Per poter fare sta cosa A piedi fino Guarda se muo metti A paragone con la latina Secondo me arriviamo Minimo sui 10 mila euro al giorno Dici No allora non possiamo Fare il paragone No non si può fare Se te levi il paragone Possiamo abbassare di tanto Possiamo renderlo 66 giorni e 2 ore Beh secondo me si può farsi Ovviamente non No ragazzi E qua bisogna Bisogna cominciare a partire subito Se no Non arriviamo Ma non facciamo manco lo zaino Vabbè compriamo tutto là Prendiamo le cose nel mentre Capito? Dai dai Ciao belli Mi sono scordato il telefono Che scuoli Stati a arrivare E' l'ho Croce Stati a arrivare E' l'ho Grazie a tutti.